siamo con roberto stagni il bel of the match della partita vinta ai rigori con un po di fatica dal club the fellows contro sparta uno a uno e quindi libertissimo il match poi il parato rigore decisivo l'unico parato di tutta la serie insomma è bastato sì a volte basta poco ed è sufficiente non è stata una bella partita sono una bella squadra sparta io li conoscevo perché ci avevo giocato altri anni contro con altre squadre siamo stati bravi siamo stati molto ordinati abbiamo soltanto soltanto gol nel primo tempo potevamo forse alla fine spingere un po di più e provare a vincere la ma va benissimo così prima di quarti di finale tutte e due terminati i rigori segno che insomma c'è grande equilibrio le squadre che sono arrivate fino a qui a meno quelle viste stasera si equivalgono tutte in teoria dovrebbero essere più forte quelle del girone sud visto che le prime due hanno fatto fatica contro la terza e la quarta di là però arrivati a questo punto non significa niente sono tutte sono tutte forti e chi chi la gioca meglio la vince bene allora grazie a te complimenti questo è il primo man of the match di betadvisor il nostro partner online la statuetta che diamo sempre al man of the match e poi ricordiamo anche spese 23 il nostro partner negozio di articoli sportivi a milano corso gabibaldi 104 trovi tutto quello che si può trovare per gli sportivi grazie grazie a te ciao ciao a tutti